Questa colla spaventa milioni di persone. L'Attac è una colla utilissima che incolla praticamente di tutto. Inevitabilmente però quando la utilizziamo capita di incollarsi anche le dita. È molto spiacevole la sensazione di sentire una patina di Attac sulle dita sulla pelle. Come fare per rimuoverla in pochi minuti? Per rimuovere rapidamente l'Attac dalla pelle servono tre cose. Sapone liquido, carta vetrata a grana 100 e acqua calda. Cospargete le dita di sapone liquido, mettete le dita sotto al rubinetto con l'acqua ben calda e grattate con la carta vetrata la parte dove si è appiccicato l'Attac. Noterete che l'insieme di acqua calda, sapone liquido e carta vetrata contribuirà a far sparire la noiosissima sensazione di colla sulle dita in pochi minuti. Buon utilizzo dell'Attac a tutti ma soprattutto buona eliminazione delle sue tracce dalle dita. Arrivederci!